...aerobico, anche un po' fascista, frutinista, ci ha raccogliato Marinetti, però quando capirete quando farlo? Nella città di Napoli, io vivo a Napoli, nella città di Napoli c'è sempre stato un grande fermetto musicale, sono tutti grandi autori, sono nel canto di tutti quanti, ma nonostante questo fenomeno di ragazze, ero da una vita, ero da giro in giro e vivo da un uomo, ero da un uomo, ero da un uomo DJ, 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 DJ a chioschetto c'è arrivati in questi locali prevalentemente fuori città dice dice quella di dice che prodossi dice dice vai a mare ti stendi sull'entrino a chioschetto c'è dice vai alla presentazione di un libro prima che mentre dopo dice vai ad un concetto dice dice dappertutto dovunque andassi dice al ristorante dico che vi piaceremo piacere tutto il mercato dice ma l'ho tappertutto da frutti vengalo dico scelte che vedo stai i numeri dico in aeroporto dico ovunque andassi allora da vuote a vuote allora da vuote dico allora da vuote a vuote dico allora da vuote a vuote dico allora da vuote a vuote Iscriviti al canale Iscriviti al canale Iscriviti al canale Iscriviti al canale